oh buongiorno buongiorno giovanotto si sta riposando lei cosa c'è? si si è così questa parte mamma mi lasci in pace io mi sono mi sto rilassando qua eh non posso mica sempre fare tutto io spesso fammi riposare un po' va bene? eh? eh? quello vuoi dire? eh? ci hai morito